Enunciamo un estratto dell'ordinanza sindacale numero 36 2014, taglio erba e pulitura terreni. Premesso che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni a pezzamenti di terreno, siti nel territorio comunale, il sindaco Luigi Lucchi ordina che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde o i responsabili di cantieri edili e stradali o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, mantenendo per tutto il periodo estivo e comunque fino al 30 settembre di ogni anno, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedendo al taglio dell'erba e alla rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe, regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze e i viali, le aree pubbliche, nonché estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro l'anno 2014, entro e non oltre il 10 agosto.